Si è aperta alla grande la stagione di gare della Vittorino da Feltre. I canottieri biancorossi, in totale una settantina tra ragazze e ragazzi, quasi tutti under 23, formano un gruppo giovane, affiatato ma soprattutto assetato di vittorie. Abbiamo iniziato la stagione col piede giusto, ci siamo difesi bene sulle gare in po' di fondo a Torino, nel mese di febbraio e poi dal mese di Barça abbiamo iniziato le gare sui canonici 2000 metri olimpici. In particolare abbiamo già svolto una regatta regionale e un meeting nazionale di società dove abbiamo portato a casa tre medaglie, due d'argento e una di bronzo. Adesso siamo nel pieno della preparazione e stiamo preparando i prossimi appuntamenti che ci porteranno poi a giugno a svolgere i campionati nazionali, i campionati italiani. Per Gemma Ghinelli sono già arrivati degli importanti risultati. Sì, ho iniziato da quasi un anno ormai e ho comunque aggiunto importanti risultati che mi hanno resa molto molto felice. Mi sono laureata, se si può dire così, campionessa italiana della mia categoria sulla distanza del Gran Fondo e poi adesso spero di aggiungere altri tanti risultati in questa stagione. È davvero bello vedere i ragazzi vogare sul fiume, è una cosa veramente insomma a volte anche emozionante devo dire. Quindi i loro risultati sono i nostri come consiglio direttivo e noi siamo ben fieri e felici di poterli sostenere. Da questo punto di vista mi sento di sfruttare l'opportunità per aprirmi al territorio piacentino e ricordare che avremo tanto bisogno di sostegno perché è uno sport che ha grandissime opportunità e tanto bisogno del sostegno del nostro territorio proprio perché ne beneficia e lo valorizza in qualche modo.